allora vedrete che le persone prima di fare un'azione del genere incominciano a porsi delle domande ma chi è che ha quella casa all'asta cosa devo fare come mi devo comportare bene eccoci benvenuti in questo nuovo video come sempre sono nicola compagnone qui parliamo di aste investimenti e difesa del debitore esecutato signore e signori ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo e glorioso video glorioso perché quando parlo della difesa del debitore per me è sempre un motivo di gloria perché mi sento un po come davide contro golia da solo a combattere contro tutti sono l'unico in italia ma non perché io sia un santo e ora vi spiego il perché si preoccupa della difesa del debitore esecutato cioè il mio lavoro è aiutare chi ha la casa all'asta anzi se è la prima volta mi presento che se capiti sul mio video mi chiamo nicola compagnone dal 2007 mi occupo di aste immobiliari poi in descrizione troverai vari link di approfondimento su di me ma soprattutto troverai il link per iscriverti alla nostra community la newsletter dove non vendiamo nulla sia chiaro ma semplicemente approfondiamo e formiamo le persone nel mondo delle asse e soprattutto della difesa del debitore esecutato prima di andare avanti ti chiedo di iscriverti al canale attivare la campanella per te un gesto semplice soprattutto gratuito per me fondamentale come vedete mi trovo col cappellino di market se non sapete chi sono sono un gruppo di ragazzi fantastici che parlano insegnano il marketing digitale ora cosa c'entro io col marketing digitale che io ho un obiettivo uno scopo perché produco tutti questi contenuti sui miei social ti ricordo che io ho un blog che ti lascio qui in descrizione anzi www.nicolacompagnone.it nel quale scrivo personalmente degli articoli ho dovuto imparare a scrivere questi articoli in chiave seo quindi scrivo il copy come si usa dire copywriter devo scrivere degli articoli e siccome li scrivo io perché sono io che ho la padronanza della materia sono io che so cosa voglio dirvi devo però dirlo nella maniera migliore anche per fare in modo di prendere l'attenzione di google e far in maniera organica far arrivare a quante più persone possibili i miei articoli poi ho un podcast ho un canale youtube quindi ho instagram tiktok linkedin quindi io produco continuamente contenuti nel mondo dei social e l'obiettivo qual è far arrivare a tutti voi far arrivare nel modo chiaro semplice e pratico qual è il mio obiettivo quindi sensibilizzare tutti voi nel mondo delle aste immobiliari e nel mondo soprattutto della difesa del debitore esecutato alla sono stato lì a rimini al markets world e ho imparato tante cose sulla comunicazione quindi ho deciso di fare questo video perché essere il primo dei video dove in maniera molto chiara cerco di esprimere esattamente il concetto di cosa faccio e come lo faccio sia chiaro io rispetto agli altri non vendo immobili quindi ho fatto anche dei video dove spiegavo che io non vendo nulla le persone mi dicono nicola ciao piacere di conoscerti che lavoro fai mi occupo di aste immobiliari e loro dicono ok grande quando hai un affare fammi sapere io ho specificato che non vendo nulla quindi io non compro case o vendo case non faccio comprare case all'asta poi ti lascio qui in descrizione un link dove spiego esattamente un link a un video che ho girato dove spiego esattamente questa cosa e in questo in questo evento di markets oltre vi ripeto dei ragazzi eccezionali i migliori secondo me in quello che fanno ho avuto il piacere di ascoltare dei speech di alcune presentazioni di alcuni grandi comunicatori dove hanno e specificano che bisogna dare del valore io valore e contenuti io non so se riesco a dare contenuti e valori in quelli che sono la produzione dei miei contenuti social ma una cosa mi è molto chiara il fine cioè io sto nel mondo del in una nicchia della nicchia io mi occupo delle aste immobiliari ma una nicchia della difesa del debitore esecutato il mio scopo appunto è sensibilizzare le persone che vogliono comprare gli immobili all'asta perché tutti investitori formatori soprattutto parlano e spiegano continuamente come comprare gli immobili all'asta come fare business come guadagnare soldi ma mai nessuno che si preoccupa di chi sta dall'altra parte il debitore esecutato in italia oltre 200.000 immobili ogni anno all'asta quindi se partiamo dal presupposto che in una famiglia mediamente ci sono tre quattro persone parliamo quasi di un milione di persone ogni anno devono affrontare una problematica del genere e pensateci un attimo dall'altra parte il debitore esecutato è una persona che sta vivendo un momento difficile quindi non è che può avvalersi o la lucidità di ricercare per poi avvalersi dei migliori professionisti in materia di difesa del debitore ci sono tanti eters in giro al momento sono l'unico che parla del debitore esecutato e che fa quello perché puoi trovare la gente immobiliare che bazzica nelle aste o puoi trovare l'avvocato che bazzica nelle aste ma se vai dal tuo avvocato per farti il divorzio te lo fa in questo caso noi da anni e dal 2007 anche se nei primi tre onestamente facevo quello che fanno tutti portavo le persone a partecipare la casa all'asta poi per puro caso mi sono ritrovato a difendere un amico che aveva la casa all'asta da quel momento sono riuscito a guadagnare sono riuscito a fare una cosa buona e giusta perché ho aiutato un amico che aveva la casa all'asta ed allora siamo diventati ancora più fraternamente amici siamo veramente molto molto amici uno dei migliori amici che ho posso dire di quei clienti poi diventati amici e quindi ho deciso e poi sono diventato mi sento molto più fortunato da quando ho deciso di fare solo quello detto ma perché non faccio solo questo credo che sia la cosa giusta da fare perché in fondo io mi sentivo male quando compravo un immobile e dovevo cacciare liberare le persone che lo occupavano però intanto lo stato mi dava ragione tutti insegnavano questa cosa perché dovevo sentirmi in difetto da allora invece io ho compreso e come un po la pillola blu la pillola rossa di matrix la realtà della cosa io ero offuscato dalla mente di tutte queste persone che vogliono insegnarti come fare soldi nel mondo delle aste poi mi si è aperto il mondo e dal 2010 non da ieri da allora ho fatto tanto di storie ne ho ascoltate tante di cose ne ho fatte tante e sono arrivato alla conclusione e ho deciso di specializzarmi in quello ma vi ripeto non ieri dal 2010 ormai sono tanti anni che faccio questo di storie ve ne potrei raccontare tante non ultimo vi ho raccontato la storia di patrizia vi lascio il link qui in descrizione del video che ho fatto dove cose ancora più assurde quindi cosa sta accadendo che più andiamo avanti e più noto che c'è veramente una cosa assurda di come le persone si comportano quando davanti a loro immagino e vedono un profitto perdono tutti i principi tutte le morali tutti i valori e a noi che ci rimane fare a noi io proprio stamattina che sto registrando questo video cioè lunedì esatta lunedì esattamente 24 ottobre ho pubblicato e ti invito a leggerlo un articolo dove parlo soluzione definitiva contro gli scostumati la soluzione definitiva contro gli scostumati è tipo un manifesto tipo come se fosse una specie di partito qualcosa dove io indico qual è la soluzione per tutte queste persone che comprano le case all'asta e non hanno rispetto di chi occupa gli immobili ma soprattutto di quelle brave persone perché sia chiaro ci sono debitori esecutati buoni debitori esecutati cattivi io ne faccio una grande distinzione anche lì ho prodotto degli articoli ho già prodotto tanta roba per questo dico sempre così anche lì ho prodotto articoli e video dove spiego la differenza tra i buoni e i cattivi e io parlo dei buoni ok quindi mi riferisco ogni volta che parlo di difesa del debitore esecutato ai meritevoli coloro che per cause forze maggiori si trovano la propria casa all'asta malattia perdita di lavoro poi sono stati degli esempi buon padri di famiglia delle persone parsimonose però hanno avuto delle difficoltà cose che possono capitare ognuno di noi e io parlo di loro quando una persona pur di portare un profitto compra quegli immobili prende quei buoni padri di famiglia e li caccia per strada a loro le mogli bambini sono da combattere diventano nemici dichiarato non c'è un altro termine miei nemici e io combatto quelle persone e soprattutto voglio con questi miei contenuti sensibilizzare tutti e dico in questo manifesto che così lo chiamo troverei link in descrizione dell'articolo interessante leggilo io dico qual è l'obiettivo non possiamo fare una banda armata purtroppo quello che dobbiamo fare però ed emarginare queste persone dalla comunità quindi se io vengo a sapere che una persona compra gli immobili all'asta poi prende caccia le persone da dentro lo dobbiamo emarginare gli dobbiamo far capire che è un disonore quello che fa perché a tutti interessa quello che pensano gli altri non è vero che ci sono le persone che non interessa il contesto sociale in cui vive cosa pensa di sé quindi se quelle persone vengono messe come un timbro addosso no un marchio a fuoco di persone che non hanno onore perché fanno e se la prendono con gli indifesi allora vedrete che le persone prima di fare un'azione del genere incominciano a porsi delle domande ma chi è che ha quella casa all'asta cosa devo fare come mi devo comportare è giusto no che io compri poi tu che diranno mai di me dobbiamo inculcare questo perché fino a quando ci saranno formatori investitori che spiegano e le leggi aiutano le persone a comprare questi immobili allora le persone si sentono legittimate a fare queste cose si sentono dalla parte del giusto io non so tu come la pensi ma di sicuro se la pensi diversamente non rispetto non condivido il tuo pensiero assolutamente sei nemico basta io difendo chi ha la casa all'asta ma soprattutto i buoni ricordatevi ho fatto una premessa i buoni quindi per favore voi haters non scrivete sì ma che dici cosa fai come fa i buoni ok quindi se prima di commentare approfondisci vari argomenti non posso in un semplice video spiegare tutto come si usa dire devi avere una prospettiva molto più ampia devi guardare la foresta non il singolo albero per capire cosa voglio dire e ti ripeto andando anche già su www.nicolacompagnone.it lì c'è il mio mondo blog video articoli tutto leggi e comprenderai cosa dico chi sono e cosa faccio e credimi non sono uno sprovveduto nel mio lavoro i miei puntini li ho messi su lei già da anni ho uno studio di consulenza che difende centinaia di persone che hanno la casa all'asta ogni anno e ogni anno il mio studio di consulenza fattura centinaia e centinaia di migliaia di euro in questa cosa e soprattutto sappi che noi non lavoriamo come gli avvocati con gli acconti solo perché ci impegniamo dobbiamo essere ricompensati no io ho la filosofia dove tutti lo sanno che noi lavoriamo al risultato quindi quando il cliente è contento e raggiunto il risultato mi paga altrimenti zero euro perché io sono a favore dei risultati no dell'impegno per me con l'impegno non si mangia si mangia con i risultati non con l'impegno quindi scusami se mi vedi che mi prende ma purtroppo ormai è la mia la è il mio lavoro ma è una mia mission di vita e professionale quindi quando parlo di questo voglio veramente riuscire a creare una community questo è il valore che poi mi hanno fatto capire in markets che dovevo esprimere in maniera molto chiara e limpida il mio obiettivo è quello di sensibilizzare le persone creare una community che la pensi come me e che soprattutto grazie al fatto che ognuno può portare un'idea un'iniziativa piccoli incontri dove possiamo approfondire cosa fare come fare per sensibilizzare le persone fare in modo che il debitore esecutato una persona che in un momento difficile della sua vita si sente solo perché è solo sapete che quando ci sono le difficoltà amici e parenti scompaiono tutti e soprattutto riescono a ritrovare in questa community qualcuno che può dare consigli indicazioni ora io non sono un santo ok quindi non sto facendo questo per spirito santo altro io faccio questo perché semplicemente mi hanno educato a me sono di napoli in provincia di napoli esattamente nella zona del vesuviano sono di nola sono nato e cresciuto con dei principi diversi nei paesi anche l'onore il senso del rispetto dell'onore aiutare il più debole ok quindi nel bene e nel male sono questo io ho una scala ho la mia piramide dei miei valori è diversa dagli altri per me non c'è al primo posto il profitto per quanto io sia un fan del profitto io sia un fan delle aste immobiliari ma si deve fare quello che si può fare non è detto che quel profitto per fare profitto dobbiamo andare ad approfittarci del più debole dobbiamo andare a prendere buon padre di famiglia e buttarli per strada no io combatto quello anche se a volte ci sono alcune pratiche dove non guadagno ma lo faccio per principio perché è per egoismo perché sto bene sto meglio dormo ok se invece giro dall'altra parte mi giro e me ne vado non dormo allora io per dormire ti devo attaccare se tu sei una di quelle persone che compra le case all'asta e sei uno scostumato quindi questa è la mia filosofia questo è il mio modo di fare poi gli haters ci sono io a differenza di tutti gli altri che non rispondono e non danno corda agli haters loro si divertono come gli haters perché io gli rispondo chiedo il confronto sono proprio li vado cercando è capito perché a me mi interessa le loro cose che hanno da dire su di me altri dicono che non so parlare non so scrivere è vero perché ho sempre lato da 18 anni ho lavorato lavorato la mia una formazione le cose che io faccio e che so provengono dalla strada non perché le ho studiate a scuola a scuola non sono mai andato bene quindi ho sempre dovuto tutto quello che so e che oggi nell'esprimermi base perché leggo leggo tanto e cerco di imparare ora però io commetto degli errori ma quello che è la base dei principi e dei valori per me imparare puoi imparare però l'abc se ce l'hai se sei un uomo e non te ne approfitti del più debole cioè non ti metti a fare come dico sempre il cattivo con i buoni il cattivo lo devi fare con i cattivi devi essere buono con i buoni e non devi fare assolutamente il cattivo con i buoni perché lì è facile ok poi quando un cattivo di turno vede qualcuno con un po più di carattere o vede un vigile urbano per intendere la divisa scappano scappano ok fanno solo i duri con i buoni questo è quello che io odio soprattutto quelli sono i pagliacci quelli che più odio vi ripeto non sono un santo non voglio vendermi come un santo assolutamente è il mio lavoro però se nel mio lavoro durante il mio percorso lavorativo incontro determinati di persone io le combatto e voglio creare una community quello è l'obiettivo creare una community una community che la pensi come me e che insieme possiamo fare tante piccole azioni che possono aiutare a sensibilizzare tutte le persone che intendono acquistare e fare operazioni all'asta ora non vi rubo altro tempo come sempre questo è un video del mercoledì e continueremo con questo tono e con questa indicazione per tutti gli altri video ci vediamo domenica con un nuovo video come sempre buona vita a tutti e al prossimo video ciao